diterotto modello 202 è stata veramente una sorpresa per me un corno fa si bemolle compensato interamente a pistoni ma perché i pistoni? beh innanzitutto perché sono più veloci il pistone rispetto al cilindro ha delle legature più fluide perché non taglia l'aria credo uno strumento indispensabile per chi voglia suonare il jazz i pistoni si possono ottenere anche diversi effetti che con i cilindri non si possono ottenere come per esempio il mezzo pistone molto utile nel jazz per l'attacco delle note uno strumento perfetto per chi cerca una sonorità più morbida meno brass in determinate situazioni penso alla musica da camera ma penso anche alle opere di Bellini, Donizzetti, Rossini uno strumento adatto ai ragazzi più giovani perché è uno strumento molto leggero è veramente una piuma il prezzo? beh non lo so dovete iscrivere a Diterotto Diterotto modello 202 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 Diterotto modello 202